Il giglio di mare, la camomilla delle spiagge e il ravastrello sono specie che si trovano solo nelle cosiddette aree dunali. Dunque queste immagini non si riferiscono esattamente ad una cava di sabbia. Il comune di Francavilla per il ripascimento delle spiagge aveva in programma il prelievo di 8.000 metri cubi di sabbia, pare in questo punto preciso vicino alla Madonnina, ma le associazioni ambientaliste dal WWF alla SOA hanno segnalato il fatto. Ieri c'è stato un esposto da parte della stazione ormintologica abruzzese, quali sono stati i risultati? Sì, oggi dovevamo partire i lavori, quindi noi abbiamo saputo questo all'ultimo secondo, abbiamo mandato un esposto a molti enti, carabinieri forestali, autorità portuale, regione Abruzzo. L'autorità portuale di Ancona è stata molto efficiente perché ci ha chiamato, ci ha ringraziato per la segnalazione ed è intervenuta scrivendo al comune di Francavilla chiedendo approfondimenti. Il comune di Francavilla, stretto giro, ha cambiato progetto e ha spostato l'area di prelievo da questa zona dunale in una zona dove non ci sono piante e dune. Certo però questo è un primo risultato importante perché abbiamo salvaguardato i valori di biodiversità, il patrimonio collettivo che noi abbiamo qui. Arei in cui è già difficile che si possa verificare la nidificazione del fratino ma in ogni caso ben frequentate dagli uccelli migratori. La risposta del comune di Francavilla è stata non tanto bene accolta dalle associazioni ambientaliste perché reputa che la via, la valutazione di impatto ambientale non debba essere in qualche modo sollecitata per questa questione. Secondo noi è un errore perché la legge parla chiaro, cioè qualsiasi lavoro di modifica della costa deve essere sottoposta a procedura di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale. La legge parla chiaro, basta leggerla, secondo il comune non si deve fare, vedremo che dirà la regione su questo aspetto. E a pescare alcune classi del comprensivo 5 sono impegnate a ripulire il tratto di spiagge in centro vicino alla nave di Cascella e intanto spunta un giglio che tra un mese circa dovrebbe fiorire accanto a un verbasco e, sorpresa finale, una specie di venuta rara nella fascia adriatica che fa Capolino. Sì, la calisteggia soldanella che in tutto Abruzzo ormai è rimasta qui e in altri, credo, due posti per dire quanto è divenuta rara per i lavori che vengono svolti troppo spesso in maniera sconsiderata lungo le spiagge.